Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Black Ops 3. Il noto rivenditore online, il retailer McHype.co.nz ha pubblicato un'edizione speciale proprio oggi relativa a Black Ops 3. Come sapete domani verrà svelata finalmente, più che altro nella notte, la modalità zombie di Call of Duty Black Ops 3. Ah, ovviamente al Comic Con 2015 e soprattutto verrà svelata la Collector Edition. Bene, proprio in vista di questo annuncio è stata svelata quella che dovrebbe essere appunto all'edizione speciale la Collector Edition di Black Ops 3. Che prenderà il nome di Juggernaut Edition e sarà veramente ricca di contenuti. E proprio questo retailer ha pubblicato la prima immagine di questa edizione con il prezzo fissato a 289,99 dollari. Ma andiamo a vedere che cosa contiene questa edizione speciale di Call of Duty Black Ops 3 che vi ripeto prende il nome di Juggernaut Edition. Innanzitutto potremo trovare un piccolo frigorifero, un vero e proprio mini frigorifero veramente fantastico che sicuramente fa pensare a qualche cosa che potremo trovare all'interno della modalità zombie. Troveremo inoltre un set di bicchieri che ricorderanno dei simboli ma soprattutto delle bevande sempre legate a questo mini frigorifero. Inoltre in questa edizione è contenuto il Season Pass che come sappiamo Season Pass darà la possibilità di scaricare ai 4 DLC previsti su Call of Duty Black Ops 3. Inoltre troveremo la mappa bonus per la modalità zombie che prende il nome di Junt che è il remake della mappa Dare Rise che molto è stata apprezzata sul precedente Call of Duty Black Ops. Troveremo inoltre delle carte da collezione, anche la steelbook da collezione, la soundtrack del gioco quindi tutte le musiche ufficiali di Call of Duty Black Ops 3 e poi un vero e proprio set di personalizzazione e mimetiche per le nostre armi e ne troveremo addirittura 3. Quindi un contenuto e una versione veramente molto ricca che ovviamente aspettiamo nella notte quindi domani che venga confermata. Intanto comunque è stata diffusa questa prima immagine che ci fa ben sperare sulla Collector Edition di Call of Duty Black Ops 3. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa edizione e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace al mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.